Pusher 2.0 acquistavano la droga in bitcoin tramite i social network per ovviare alle restrizioni del periodo di emergenza covid. All'alba di stamane c'è stato l'epilogo di una vasta inchiesta di rilevanza nazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di potenza e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lago Negro che nel corso del tempo ha portato in tutta Italia all'arresto in flagranza di reato di 103 persone e al deferimento e stato di libertà di altre 84 per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Oltre 100 kg di droga tra marijuana, hashish, eroina, cocaina, extasi, metanfetamina e chetamina provenienti dalla Spagna e dall'Olanda sono state sottoposte a sequestro dall'inizio dell'inchiesta. Stamane invece come ultimo atto sono state eseguite 34 perquisizioni. Nel corso delle indagini è emersa una nuova forma di approvvigionamento della sostanza a causa delle restrizioni covid. I pusher acquistavano la droga infatti nel dark web tramite canali dedicati su instagram facebook e telegram concretizzando il pagamento con criptovaluta priva di ogni tracciabilità e ricevendo la sostanza stupefacente direttamente in casa consegnata da ignari impiegati dei principali vettori di Corriere Espresso anche perché nascosta spesso all'interno di confezioni di genere alimentare quali ad esempio biscotti, cereali e frutta secca. Queste venivano nuovamente sigillate, cosparse di essenze odorose per confondere il fiuto dei cani e tenute in fresco grazie a confezioni di ghiaccio gel a lunga durata. Le indagini hanno avuto inizio proprio a Lago Negro quando in pieno lockdown i carabinieri del nucleo operativo hanno effettuato un sequestro a carico di un giovane lagone grese di circa un chilogrammo di hashish e marijuana contenuto all'interno di un plico postale proveniente dalla Spagna regolarmente consegnato da un Corriere autorizzato ignaro del contenuto. Gli inquirenti da qui sono riusciti poi a risalire ai mittenti e alle modalità di approvvigionamento della droga provenienti dalla Spagna, in particolare da Madrid e Barcellona e dall'Olanda, svelando la ramificata organizzazione che metteva grandi quantità di stupefacente nell'intera penisola.